Ciao, sono Giulia Leo, frequento il primo anno di Economia e Management alla LUIS. Credo che uno degli elementi più importanti e fondamentali che spero di acquisire in futuro sia la conoscenza del maggior numero di lingue possibile, soprattutto per la comunicazione con l'altro, oltre che la collaborazione e quindi il lavoro in team, quindi con un gruppo di persone.